Ciao e benvenuti al mio canale. In questo video, ti offrirò un'anteprima davvero straordinaria che ti lascerà senza parole. Esploreremo il modo in cui Baze raggiungerà una decisione cruciale nella sua vita. Zuleya si trova in un incontro con il detective a cui aveva richiesto di investigare su Baze. Conferma che i suoi sospetti erano fondati, mentre il detective le consegna una cartella contenente prove incontrovertibili. Attraverso queste prove, Zuleya scopre come Baze abbia orchestrato la morte dei suoi ex mariti e coperto le loro tragiche fine. Tuttavia, il detective spiega che queste prove non sono sufficienti per incriminarla dell'omicidio di Ankar Yaman. Mujaygan giunge al circolo per incontrare Baze, che ha pianificato la loro fuga. Mujaygan ha venduto i suoi gioielli per finanziare il viaggio di sua zia e dichiara che è contenta di non doverla più rivedere. Nel circolo, compaiono anche Sermin e Fuzon, che insultano Baze. Sermin si avvicina e la accusa di essere la principale sospettata nell'omicidio di Ankar. Baze si alza e le intima di tacere. Fuzon chiede spiegazioni riguardo al motivo per cui Demir avesse voluto ucciderla. Questa affermazione sorprende Mujaygan, ma Baze chiede loro di dimostrare le loro affermazioni. In quel momento, Zuleya fa il suo ingresso con la cartella in mano, affermando che le prove sono lì. Baze è confusa e chiede spiegazioni. Tuttavia, sia Mujaygan che Zuleya cercano di farla confessare. Baze respinge le accuse, definendo le calunnie. A questo punto, Zuleya si alza e chiede direttamente a Baze perché ha ucciso i suoi mariti. Questo momento sconvolge Mujaygan, che è confusa. Zuleya inizia a esporre le prove del coinvolgimento di Baze nelle morti per eredità e rivelando che il padre aveva falsificato i certificati di morte. Zuleya se ne va con aria sfidante. Baze prende un taxi, chiedendo al conducente di andare più veloce. Tornata a casa, inizia a fare la valigia per scappare. Dopo aver conteggiato il denaro in una borsa, capisce che non sarà sufficiente per fuggire lontano. Prende la valigia e lascia casa. Preoccupata. Si dirige da Saniya i Ghaffur nella speranza di trovare altri soldi. Dopo una ricerca infruttuosa, trova denaro nascosto in un buco nel muro, che raccoglie prima di scappare con le sue valigie. Mujaygan si reca in ospedale, dove incontra un'infermiera che le chiede se ci sono problemi con Baze. Nonostante la sua turbolenza interiore, Mujaygan nega. Nel suo ufficio, si ritrova confusa su cosa sia vero e cosa no. Ricordando quando Zuleia aveva accusato Baze di essere un'assassina di fronte a tutti. La situazione la sconvolge e legge il rapporto di suo padre che conferma le morti dei mariti di Baze per infarto, ma vuole scavare più a fondo. Si reca al parcheggio, cercando indizi sulla scomparsa dell'auto. Un collega trova frammenti di vetro provenienti dal finestrino di un'auto e un altro collega le rivela che l'auto è stata presa da sua zia, Baze. Nel frattempo, Fekeli viene raggiunto da Zuleia, che gli mostra le prove contro Baze. Rivela che Baze ha ucciso i suoi mariti e Ankar. Nel frattempo, Fikret, nel suo ufficio, riceve una chiamata dal dottore che lo avvisa di un problema con Mujaygan. Il dottore spiega che l'ha vista per strada con dei documenti su Baze. Nel frattempo, Mujaygan è distesa sul pavimento, riflettendo su cosa fare. I suoi colleghi le chiedono di farli entrare, ma lei rifiuta. Intanto, Sermin si reca da Demir, ma quest'ultimo non è in ufficio. Quando Demir arriva, Sermin gli spiega che Baze ha ucciso Ankar e che Zuleia la ha smascherata davanti a tutti al circolo. Demir inizia quindi a correre verso l'auto per cercarla. Nel frattempo, Fikret entra in ospedale con la determinazione di aiutare Mujaygan. Dopo una lunga negoziazione, riesce a entrare nel suo ufficio. La ragazza affronta Fikret, poiché sa che suo padre è complice di sua zia, e trova conforto nelle parole di Fikret mentre si chiede come possa vivere in una famiglia così complicata. Intanto, Baze guida l'auto di Mujaygan, mentre Fekeli la insegue, cercando di capire dove stia andando. Fekeli è determinato a raggiungerla. Nel retro dell'auto di Baze ci sono anche Demir e Sermin. Demir estrae una pistola, deciso a trovarla e vendicare sua madre. Nel frattempo, Zuleia si sente colpevole, ritenendosi responsabile per non essere andata dalla polizia e aver invece rivelato tutto al circolo, dando a Baze la possibilità di fuggire. L'auto di Mujaygan si rompe improvvisamente e produce rumori strani. Baze scende dall'auto e inizia a correre attraverso la campagna, cercando una via di fuga. Fekeli e Zuleia raggiungono l'auto, la parcheggiano e seguono il sentiero che Baze ha preso. I due la raggiungono e, una volta raggiunta, Baze dichiara di volersi arrendere. Fekeli risponde che sarà Baze stessa a porre fine alla sua vita. Fekeli le offre la possibilità di uccidersi da sola e le porge la pistola. Baze decide di cambiare idea e punta la pistola contro Fekeli, chiedendogli di darle le chiavi per scappare. Zuleia le chiede come abbia potuto compiere tali azioni, come abbia potuto uccidere sua madre. Baze urla contro Zuleia, chiedendole come possa chiamarla madre dopo averle rovinato la vita. Nel frattempo, Mujaygan e Fikret si avvicinano al luogo, implorando Baze di non prendere decisioni affrettate e di cercare di calmarsi. Fekeli quindi le chiese. Perché hai ucciso Ankar? Ma Baze, visibilmente agitata, rispose con rabbia che lo aveva fatto perché lui voleva cacciarla da Cucurova. Baze richiese le chiavi e Fekeli si avvicinò a lei. A quel punto, Fekeli gridò di sparargli e di fare ciò che doveva. Baze premette il grilletto, ma la pistola era scarica. Gli altri rimasero sbalorditi. A quel punto, Baze si rese conto che non aveva più possibilità di fuga e confessò, l'ho ucciso io. Fekeli le disse che tutte le persone presenti erano testimoni di questa confessione. Baze retrocedette, mentre Fekeli le disse che aveva spezzato il cuore di tutti uccidendo Ankar, e che meritava di morire. Nel frattempo, Mujaygan si stringeva a Fikret e Fekeli gli disse che se avesse 40 anni non esiterebbe ad ucciderla. Ma aveva fatto una promessa a se stesso. Non avrebbe più ucciso nessuno. In quel momento, però, Demir fece irruzione. Mujaygan urlò che aveva una pistola. Demir prese la mira, ma Baze sorrise, arretrando sempre sorridendo, e alla fine si gettò giù da un dirupo, ricordando il momento preciso in cui aveva ucciso Ankar. Tutti rimasero sorpresi da questo gesto. Si avvicinarono al dirupo per controllare e trovarono Baze morta molti metri più sotto. Fekeli sembrava sollevato, mentre Mujaygan era sconvolta. Questi sono stati, in breve, gli eventi che hanno portato Baze a compiere il gesto estremo di togliersi la vita, rifiutando agli altri la soddisfazione di ucciderla a Kukurova. Ora, si chiedeva se avrebbe trovato la pace, per questa volta è tutto. Fateci sapere nei commenti se avete apprezzato il video, lasciando un bel mi piace, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!